Al grido di... Libererò il Partito Democratico, parole sue, da capibastone e cacicchi. Senatore, ma chi sono i cacicchi? E chi è i cacicchi? Lei è più un cacicco o un capobastone? Non è uno nell'altro, direi oggi per fortuna. Conte dovrebbe occuparsi del fatto che il più grande episodio di Trasformista, dai tempi di... Petris. Presidente, lei è più cacicco o capibastone? Mamma mia, è l'era del Kali Yuga, proprio. Kali Yuga. Facile. È l'epoca idduista dell'ipocrisia e degli egoismi. Facilissimo. Conte ha deciso di spolpare il Partito Democratico. Vedete, il campo largo esiste ancora. Scusate, non dichiaro? Non dichiaro. Neanche sul delco. Neanche sul delco. Dell'orrore non può che trovarsi presa al limite della rideformazione comica. Rinunciamo ai ruoli di governo? Lasciamo i nostri posti in giunta? Lasciamo, rimettiamo tutte le deloghe. Ma le elezioni di moralità e il pivinone, quindi era nessuno, secondo me. Sono le caciche e le carracine, le carracine, si dice il dialetto abruzzese, le carracine. Buongiorno. 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 Buongiorno.